Benvenuti su Gossip Globe. Prima di continuare ricorda di mettere un like, seguire il canale ed attivare la campanella per restare sempre aggiornato. Raoul Bova ha annunciato di aver subito un'operazione in ospedale per un problema di salute imprevisto. L'attore si è recato immediatamente alla struttura sanitaria per l'intervento. A causa di questa operazione, Raoul Bova non potrà partecipare al Magna Grecia Film Festival. Ha informato i fan di questa spiacevole novità, che ha stravolto i suoi piani. Raoul Bova avrebbe dovuto ricevere la colonna d'oro, un riconoscimento prestigioso dagli organizzatori del festival. L'attore ha espresso il suo dispiacere per non poter essere presente. Bova ha parlato dell'intervento. Sono molto dispiaciuto, sarei voluto venire lì con voi a festeggiare e sorridere con Gianvito Casadonte e tutto lo staff. Ha spiegato che l'intervento chirurgico ha riguardato il suo ginocchio. Dopo la dimissione dal Gemelli di Roma, ha raccontato i dettagli ai fan. Bova ha condiviso un messaggio di saluto e un grande abbraccio ai suoi fan, sperando che stiano bene, e ha spiegato perché l'operazione è stata anticipata. L'attore ha rassicurato tutti dicendo, non sono in una situazione grave, ho fatto un'operazione per stare meglio e starò meglio. Il Magna Grecia Film Festival ha diffuso il suo messaggio su Instagram, augurando a Raúl una pronta guarigione e sperando di rivederlo presto. I fan sono rimasti preoccupati ma sollevati dalle parole di Bova, che ha promesso di riprendersi rapidamente e tornare in forma.